L'insieme del Vangelo ha una potenza intrinseca, capace non solo di formare uomini retti, corretti, forti, ma capace anche di trasmettere agli altri il senso del bene, della rettitudine, dell'onestà, del vivere anche di poco, pur di non vendere la propria dignità, perché la dignità non apprezzo. Questo da solo nel tempo in cui viviamo non è sempre facile ottenerlo, perché il mistero dell'iniquità è più forte a volte, offre, alletta, attrae e quindi persone fragili o bisognose facilmente sono condizionabili. All'ora di qui, un'opera che deve partire a livello formativo, io direi a livello scolastico, dovremmo mettere dei corsi stabili, soprattutto nel nostro sud, per le varie realtà negative, mafia, andranghe, d'accamorra, che abbiamo, aiutare le famiglie, anche lì trasmettendo valori alti, la chiesa, la società, la scuola e poi il lavoro per i giovani. Le istituzioni da solo, la magistratura, le forze dall'ordine da solo non possono fare tutto, ma dobbiamo essere coscienti che la forza disarmante dell'Evangelo, come lei ha detto, e mi piace che l'ha detto pure lei, ha questa possibilità. Pino Puglisi è un esempio, è un modello. Quella morte non è la sconfitta di un'idea o di un metodo o di uno stile di vita, ma è una vittoria da prendere ad esempio e da tradurla nella nostra vita di ogni giorno.